Lunedì 14 ottobre 2024, un buongiorno da tutta la redazione di TRMH24 e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra ericola. Insieme leggeremo e commenteremo i quotidiani di taglio nazionale e locale ed iniziamo appunto con la prima pagina del Corriere della Sera. Tensioni tra Italia e Israele, due tank dell'IDF sfondano una cancellata, il generale Portolano, i nostri militari sono frustrati. Irruzione in una base Unifil, Netanyahu via, i caschi blu, Meloni inaccettabile, l'esercito israeliano in una base Unifil, Netanyahu via, i caschi blu, la protesta italiana e ancora nella foresta per stanare Hezbollah. Il reportage con le truppe dello Stato ebraico in Libano, sotto la roccia bianca che sale dal mare, i britannici avevano scavato una galleria per unire Haifa e Beirut con la ferrovia. È stata sigillata dagli israeliani e 76 anni fa colpi di tritolo per paura che dal tunnel si infiltrassero gli arabi. Dall'ora questo resta un confine di guerra, quel centinaio di chilometri per raggiungere la capitale libanese percorribili solo in un Medio Oriente che non esiste ancora. Le acace, le robinie, lo spino di Giuda, le radici che sbucano dal calcare. E ancora, Rozzano, la fidanzata chattavamo, un delitto folle, l'assassino e l'aiuto del padre. Alle 2.55 di venerdì scorso, Manuel Mastropasqua stava inviando un vocale alla fidanzata Ginevra. Lui a Rozzano, lei in Liguria, poi il vuoto. Quel vocale non è mai partito. La ragazza ha scritto questo messaggio sui social, ti prometto che avrai la tua giustizia. L'assassino e l'aiuto del padre che ha buttato le cuffie. Mi ha detto che si erano rotte. E ancora in centro pagina, la fotonotizia. Sinner numero uno, battuto Djokovic a Shanghai. Un anno incredibile. Sinner, settimo sigillo, imperatore della Cina e già nell'Olimpo del tennis. È un impegno quotidiano Sinner, non solo per gli avversali, che lui passa agevolmente dal tritatutto alla friggitrice fino al mattarello per farne delle pizze. Secondo, tradizione di famiglia. E ancora conti, margini EU su misure deficit, tasse alle banche. Su manovra il duello Lega e Forza Italia. Lega e Forza Italia divisi sugli extra profitti. Crippa dice sì al prelievo. Replica Tajani, una cosa da Unione Sovietica. I grandi elettori USA e la scelta del presidente. Il 5 novembre, un martedì, gli Stati Uniti vanno alle urne per eleggere il successore di Joe Biden. Come funziona il sistema? Per scegliere il nuovo capo dello Stato. Ed ora guardiamo insieme la prima pagina di Repubblica. Anche qui parliamo di guerra in Medio Oriente. L'ONU ritiri, caschi blu. Netanyahu chiama Guterres via Unifil dal Libano. L'IDF sul nuovo attacco è stato un errore, ma eravamo sottotiro. Telefonata tra Meloni e il premier israeliano. Aggressioni inaccettabili. Gli USA inviano altre armi e 100 militari. Tank contro una base. Portolano e i nostri soldati possono reagire. E scontro tra il governo israeliano e l'ONU. Il premier Netanyahu chiede di rimuovere l'Unifil dalle aree di combattimento di Hezbollah. In Libano il segretario generale Guterres ribatte. Gli attacchi potrebbero essere crimini di guerra. Meloni, aggressioni inaccettabili. Il capo di Stato maggiore alla difesa. Portolano nell'intervista i nostri soldati per difendersi possono anche reagire. E ancora Haifa. Drone di Hezbollah buca le difese. Terrore e feriti. Gaza. Cinque bambini uccise in un raid mentre giocavano. E ancora in centropagina mappe per gli italiani la sanità è la prima emergenza. Sono passati pochi anni da quando a inizio decennio le preoccupazioni dei cittadini in Italia erano concentrate intorno a un problema. Il virus, il covid che aveva coinvolto e sconvolto l'attenzione della società provocando vittime in numero crescente. Per questo i temi economici e in misura minore la disoccupazione generavano inquietudine. Più degli altri problemi che incombevano come le tasse e l'immigrazione. E parliamo della manovra lite continua tra Lega e Forza Italia per la tassa sugli extra profitti. E ancora la foto notizia. Sinner vince anche a Shanghai. Djokovic ora mi rivedo in lui. Gli atleti nella foto. Yannick Sinner con il trofeo dopo aver battuto Novak Djokovic. Ed ora guardiamo insieme la prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno. Lo spione spiato. Bari Coviello scoperto dopo le ricerche sul conto di una parente. Nella lista pure Di Maio e Di Battista. Quei risparmi, nuova frontiera dell'erotismo e il momento di investire in sicurezza. E poi parliamo di cronaca. Minacce, botte al marito, due anni e mezzo alla moglie condannata per gli abusi davanti ai quattro figli. E ancora morì a 12 anni sotto i ferri. Ci sarà un'altra perizia. Il Tribunale? Forse Zarai poteva salvarsi. E in centro pagina? Ipotesi extra profitti. Ancora scintille. Fra Lega e Forza Italia trasformismi baresi in lira di Leccese. La Lega tassare le banche. Forza Italia extra profitti. Roba da Unione Sovietica. Mentre il governo corre per chiudere entro martedì l'impalcatura della manovra. Nel governo si litiga sui profitti di istituti di credito grandi imprese che dovrebbero essere chiamati a dare il loro contributo. E da Bari l'ira del sindaco Leccese contro i civici di Emiliano. No trasformismi. E ancora la cronaca. Truccano un gratte e vinci e incassano un processo. Tre giocatori nel Tarantino nei guai. E ancora all'interno il fascino del cammino materano a piedi da San Nicola ai Sassi. Tragico tamponamento a Ravenna. Muore 41enne di Galatone. Crack della Coppa. Marchio Libera. Un tavolo dalla prefettura di Brindisi. E parliamo anche di sport. Sinner. Non si ferma più. Steso Djokovic. È trionfo. E serie B. L'intervista esclusiva al difensore Biancorosso. Il Bari visto da Puccino. La classifica è bugiarda. Ed ora guardiamo insieme per l'appunto. Gazzetta del Mezzogiorno. Sport. Italia. Israele. Per Spalletti. Bietato. Fallire. Messaggio. Basta. Guerra. E ancora in centropagina si parla del Lecce e del Bari. Lecce. Niente paura. Bari. Quanta energia. Ramadani. 28 anni. E' uno dei punti fermi del Lecce che sta vivendo un periodo complicato e che dopo la sosta sfiderà la Fiorentina a Via del Mare. E ancora Raffaele Puccino. 33 anni. Ha meritato la fiducia di Longo che lo ha sempre schierato nella difesa a tre. Il difensore si è raccontato alla Gazzetta in una lunga e appassionante intervista. E ancora si parla di Serie C. Taranto risorge. Foggia c'è. Prima vittoria in campionato per il Taranto di Gautieri. Battuto il Picerno nel finale. Potenza e Foggia si dividono la posta. Ma Capuano scatenato con testa e rigore concesso ai Lucani. E poi parliamo di basket. Brindisi. Prima vittoria. La Valtour Brindisi dopo il sonoro schiaffo. Rimmediato mercoledì a Cantù ha reagito dominando una Unieuro Forlì schiacciata dall'intensità difensiva e dalla voglia di vincere dei pugliesi. E ancora volle. Prisma periodo negativo. Arriva la sconfitta per la gioiella. Prisma Taranto che al Palamazzola deve inchinarsi a un padova intraprendente e incisivo. Per la squadra Ionica si tratta del secondo in successo consecutivo. Ed ora guardiamo l'edicola. È l'edicola dello sport. E anche qui parliamo della situazione del bancario. Conti spiati. La verità dai PC. Parlano due vittime illustri. I PM si apprestano a conferire l'incarico per l'analisi del contenuto dei vari dispositivi sequestrati a Coviello. Sgarbi da lui curiosità infantile. E Albano gesto squallido. E qui in foto appunto vediamo la filiale Agribusiness di Biceglie. E ancora l'autunno caldo. Automotive in crisi. Licenziale regolamenti e proteste. Si preannuncia un autunno caldo in Puglia e in Basilicata. Regioni in cui il settore dell'automotive è sempre più in crisi. Complice la cosiddetta svolta green. Le aziende sono costrette a licenziare. Ed ora guardiamo gli articoli di spalla. In Puglia. Regione è caos. Il Consiglio slitta ancora. Unisalento stipendio superirettore. Il PD dice no. E affoggia mensal via. Ecco i prodotti biologici. E a Massafra parlo a quarto. Io tradito da tre dem. E in taglio basso nel capoluogo si parla di Movida. Un grave errore. Colpevolizzare i giovani. In attesa che il sindaco Vito Leccese disciplini la Movida in modo più restrittivo infuria la polemica. A gettare benzina sul fuoco sono i membri del collettivo di sinistra zona franca che contestano l'atteggiamento paternalistico e il tentativo del comune di colpevolizzare i giovani. Ed ora guardiamo insieme l'edicola dello sport in centropagina. Novakovic dagli Stati Uniti a Bari in questa piazza sto benissimo e arrivato in prestito dal Venezia nell'ultima sessione di calcio mercato. E ancora parliamo di Serie C. Il Foggia ferma il Potenza sull'1 a 1. Serie A per il Lecce. Gare difficili con Napoli, Fiorentina e Bologna. E Serie D. L'Andrea trova la prima vittoria. Ed ora diamo uno sguardo all'economia con la prima pagina del Sole 24 ore. Si parla di testi invalsi dall'Ecco a Crotone. Ecco la geografia dei divari in classe. I dati 2023-2024 confermano i ritardi al sud dove il 60% ha competenze inadeguate. Alcune aree non recuperano sugli anni Covid. E ancora si parla di lavoro sanatoria 2020 per colfe e agricoli. Accolte 7 istanze su 10. E parliamo ancora di sicurezza dagli ospedali agli stadi. Più casi d'arri arresto di ferito. E in centropagina nella UE la concorrenza fiscale resta alta. Le mosse di Regno Unito e Portogallo non cambiano il quadro generale. E il patto sulle tasse concordato sud con voti più bassi ma nord decisivo. E ancora vince il no al riversamento bonus ricerca. La moda non cede. E poi continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Già realtà nei piani di 10.000 le imprese italiane. In un anno crescita del 30%. Boom dei professionisti su da 40.000 a 300.000. Bene, questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo letto e commentato insieme. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.